Musica Bentrovati con il TGLIS di Telebari. Un motociclista di 40 anni è morto a Bari in un incidente stradale avvenuto alle 3 del mattino sulla statale 16 bis, nel tratto compreso tra i svincoli per la statale 100 Taranto e Carrassi Carbonara. La vittima viaggiava in sella a una moto di cui, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo. Non sarebbero coinvolti altri mezzi nell'incidente. Il motociclista è morto sul colpo e il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Per gli lievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari e il personale ANAS. 6 anni di reclusione per conclusione e violenza sessuale aggravata, quest'ultimo potrebbe essere già prescritto, nei confronti di una studentessa e la condanna a risarcire l'Università degli Studi di Bari al Domoro. Tanto rischia il docente di diritto civile di Uniba, Fabrizio Volpe. Ieri il PM Marco D'Agostino ha fatto la sua requisitoria finale chiedendo la condanna per il professore per fatti risalenti agli anni 2014-2015. Secondo l'accusa, Volpe avrebbe chiesto, minacciando la presunta vittima, prestazioni sessuali e anche denaro per superare gli esami. E adesso le altre notizie del TGLIS. L'estate con le alte temperature garantisce una tregua dalle infezioni invernali, la tanta odiata influenza che ad ogni inverno costringe a letto migliaia di baresi. Ma i virus non vanno mai in vacanza, stagione che arriva, virus che trovi, è proprio il caso di dire. Ed ecco che anche durante l'estate ci sono agenti patogeni che rimangono piuttosto vivaci. La conferma arriva dai dati epidemiologici. Occhio però, anche al caldo, non sempre gli stati febbrili sono legati a infezioni, frequenti anche i colpi di sole o di calore. Ambulatori presi d'assalto in questi giorni per adenovirus e virus gastrointestinali, le infezioni più diffuse in questo periodo, soprattutto per i pazienti in età pediatrica. Dunque ci si ammala anche sotto l'ombrellone. Esempio tipico sono gli effetti dell'alga tossica che in elevate concentrazioni, favorite dalle temperature sempre più alte, può provocare sintomi come quelli dell'influenza, febbre inclusa, con dermatiti o congiuntiviti. L'AMIU è intervenuta in via Glomerelli nel quartiere Stanic di Bari per rimuovere montagne di rifiuti. Gli operatori si sono recati in zone dove ci sono alcuni carrellati condominali accessibili a chiunque perché si trovano sulla strada e non all'interno dei condomini dove invece dovrebbero essere sistemati. A riscontrare la situazione è stato il direttore generale dell'azienda Antonello Antonicelli che ha effettuato assieme a personale AMIU sopralluoghi per individuare comportamenti incivili. Il nostro lavoro, come quello di ciascuno, aggiunge la presidente Lomoro, naturalmente è perfettibile ed è costantemente oggetto di studio, approfondimenti e migliorie, ma questo non legittima in alcuna maniera reiterati comportamenti incivili. Un punto ristoro a quattro ruote che garantirà un pasto caldo e bevande fresche nella affollata spiaggia di pane e pomodoro. Ci sono anche i tavolini dove i clienti potranno accomodarsi per mangiare e bere in tranquillità al riparo dal sole. Torna il food truck sulla spiaggia dei baresi dove i bagnanti potranno consumare colazione, pranzo e cena senza doversi allontanare dalla battigia, questo nell'attesa che il bar riapra, chiuso per un'interdittiva antimafia. Il furgoncino è posizionato all'ingresso di pane e pomodoro e sarà disponibile fino ad ottobre dalle 9 alle 21. Si erano conosciuti in un locale a Casa Massima dove Checco Zalone esordì sul palco di Zelikoff. Lui era alle prime battute da comico, lei era la ragazza del karaoke, poi diventata la famosa Angela a cui è dedicata la famosa canzone del film Cado dalle nubi. E adesso dopo 17 anni insieme la coppia sembra essere arrivata a capolinea Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli. A lanciare la notizia della rottura è stata Dago Spia, una storia durata quasi 20 anni e cominciata quando il comico pugliese era ancora agli esordi. E adesso le notizie provenienti dall'area metropolitana e dalla regione. Con l'accusa di tentato omicidio un trentenne ospite della foresteria per stranieri impegnati in lavori stagionali, Masseria Bunkuria Nardò, è stato arrestato dalla polizia. Il trentenne originario del Marocco avrebbe ferito con un macete un connazionale di 32 anni, anche lui ospitato nella stessa struttura. I due avrebbero litigato per futili motivi e il trentenne avrebbe aggredito il connazionale ferendolo con una lama lunga 20 centimetri. La vittima, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in ospedale. La prognosi è riservata. L'aggressore, dopo essere fuggito, è stato rintracciato dai poliziotti. In forte stato di agitazione, è stato trovato in possesso del macete usato per ferire il trentaduenne. Si sono svolti nella chiesa di Sant'Antonio a Fasano i funerali della venticinquenne Clelia d'Itano, morta dopo essere caduta nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio, nel vano ascensore della palazzina dove abitava con la famiglia. Oggi si è svolta l'autopsia, disposta dalla procura di Brindisi, nell'inchiesta sull'incidente di quella notte. A quanto si apprende, la ragazza avrebbe subito una lesione a livello encefalico e con ogni probabilità sarebbe morta sul colpo. Al momento sono quattro le persone indagate per l'incidente avvenuto nella palazzina. Sono accusate di omicidio colposo. Si tratta dell'amministratore del condominio e di altre tre persone coinvolte nelle attività di manutenzione e revisione dell'ascensore. Un ordigno bellico, presumibilmente della Seconda Guerra Mondiale, è stato scoperto questa mattina all'interno di un palazzo storico di Ostuni, in provincia di Brindisi, dove sono in corso lavori di riqualificazione. L'immobile è di proprietà del comune. Gli operai, dopo il ritrovamento dell'ordigno, hanno sospeso i lavori e allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e del Commissariato di Ostuni, per mettere in sicurezza l'area. In via Cattedrale, nel cuore del centro storico, in quel momento pieno di turisti, è giunto il personale del reparto artificieri della Polizia, che ha recuperato l'ordigno, poi fatto brillare in un luogo sicuro. Anche la Puglia e la Basilicata concorrono all'edizione 2027 del titolo di Capitale Italiana della Cultura. I posti sono Alberobello, Brindisi, Gallipoli e Aliano. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà realizzare le attività progettate nel dossier e rilanciare il proprio territorio attraverso la cultura. L'ultima città ad essere insegnita dal titolo è stata l'Aquila per il 2026. La capitale italiana della cultura in carica è Pesaro, a cui seguirà il prossimo anno a Grigento. E con il TgList è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS